Di chi hai questa foto? Mario Schifano. Questa è la foto di Mario Schifano? Sì, e anche 29 settembre. Anche questa è una foto di Mario Schifano? Questa qui tutta, tutta, ma l'ha fatta di fronte a uno specchio che... No, era la carta da parati di casa mia. Sai erano i tempi di LSD e robe di genere, allora a me bastavano queste robe qua che andavano fuori di testo, mi accontentavo, mi accontentavo. Bello questo. Mario Schifano, fra l'altro tu conoscevi Mario Schifano anche perché Mario Schifano stava con Anita Pallenberg. No. Con chi stava lui? No, no, no. Andiamo a... Ci stavi tu con Anita Pallenberg. Anita Pallenberg era la donna di Brian Jones che poi gliel'ha portata via. No, no, no. Sì, però quando lei una mattina portandomi la colazione a letto... Perché? Scusa Anita, non c'è più neanche lei, c'è più nessuno. Andiamo avanti, un po' parliamo di questo. Mi portò la colazione e mi dice, Maurizio, io devo dirti una cosa. Dico, dimmi, vado a Londra. Dico, bello. Dico, magari vengo anch'io. No, no, devo andare io per una cosa. Va bene. Quando torni, e lei mi fa... Non torno. Una strameravigliosa bellezza come lei che ti dice non torno. Ti girano, insomma. E allora, poi un giorno ero a casa di amici, dove c'era quel famoso attore di colore di cui ti parlavo fuori onda. Anche lui quella sera, che tra parenti e lui suonano a campanella, a telefono alla mezza e ne arrivò e dice Arriva, grande amico di Rolling Stones. Cosa? Grande amico di Rolling Stones. Chi? Lui ha detto così. Arriva, grande amico di Rolling Stones. Io ho capito, amico. Si apre la porta, arriva dentro Anita, dopo tre anni che non la vedevo. E entra, saluta tutti e fa così anche a me. Mi dico, beh, cosa è successo? Insomma, dopo puoi andare di là a chiarimmo. Ah, pensavo non ti ricordassi di me. Io ho detto, sto cavolo. E lei in quel momento era con Brian. Jones. Con Brian Jones. Che tra parenti li passò tutta la sera così. A massaggiarmi la coscia. Mi sta massaggiando la coscia. E poi dopo ci frequentavamo. Ma non c'era Brian Jones lì però? C'era, c'era. Sei stato tutta la sera a massaggiarmi la coscia. Chi era, il fantasma? Ah, Brian Jones massaggiava te. Me? Ah, io credo veniva in tappare. Scusa, diamo un po' i soggetti. Lui, passo la serata, perché lui aveva le F. Brian Jones. Sì, ma non diceva sì, diceva yes. E passava la serata questo cavolo di mano sulla gamba. Ma era gay? Non te lo so dire, so che, ma non te lo so dire. Vabbè, comunque. Mi ravanava la gamba. Va bene, è Brian Jones. Sì, mi parlava in inglese, io l'inglese lo mastico abbastanza benino, però non sono stato molto attento, perché il mio problema era perché era entrata a Nita e non mi aveva salutato bene. Quindi lui poteva dire quello che voleva, ma io ero lì che pensavo adesso, come la recupero. Cioè, questo qui c'ha Brian Jones in casa, che gli cipolla anche la gamba. Vedi che viene fuori il vero Red. Voi non immaginate cos'era Nita, parlemelo allora. Faceva sparire 200 Brian Jones alla volta. Sì, ho capito. Però questo qui, pensa a un Rolling Stone. Ma c'era Nita a Parlemelo lì, ma che Rolling Stone? No, c'ha il Rolling Stone, perché è stato quello che ha fondato i Rolling Stone, che poi Mick Jagger l'ha fatto fuori. Io non lo sapevo che li aveva affondati lui, affondati. Però, no, l'ha affondato, l'hanno affondato dopo lui, poverino, in piscina. Oh signor, quanto parte queste mirabilidole. Ma non è mirabilido, cazzo, c'è Brian Jones? Cioè, tu hai incontrato anche Keith Richard? Keith Richard, addirittura... Allora, tu sai che quando parli di qualcuno di grande, poi te ne racconto uno su Battisti dopo che mi stanno girando le balle, quando parli di qualcuno di grande c'è sempre qualcuno, se mi metto così sembra che io abbia un corno, invece vedi non è un corno quello lì. Questo non è un corno. Vabbè, ti stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Ah! Allora, io frequentavo Anita. Sì. Anita a un certo punto dice, Maurizio devi andare via da questa casa, perché domani arriva Keith Richard, quando già aveva mollato Brian Jones. Però, magari domani ti chiamo, ti telefono, sei al solito posto, sì, sono lì nell'hotel, non c'erano i telefonini, te lo presento, eccetera. Vabbè, insomma, me lo presenta, vado là, addirittura passiamo la giornata a suonare insieme. Tu e Keith Richard. Io e Keith Richard a casa. Sì. A suonare insieme, cosa faccio? Vado, ci sono quelli dell'Equipe, io. Sono stato alla giornata con Keith Richard, la suonare la chitarra e tutti. Sì, va bene. Io col Papa e venivano fuori tutte queste robe. Ci credeva nessuno. È certo. Cosa succede? Che Anita sa che suoniamo in un locale che si chiamava, orco cane, non mi ricordo, come si chiamava Roma, dove quella sera lì c'erano cane da Moravia, Amici, eccetera. In camerino entra Keith Richard e Anita Palleber. Quei quattro deficienti, pace all'anima loro, sono rimasti quelli? dell'Equipe. Tutta sera perché non ce l'avevano creduto. È venuto Keith Richard e Anita a trovarci in questo locale. E sono stati in camerino a parlare con me, eccetera. E gli altri erano tutti allo. C'erano gli ippopotami sbadiglianti. Al bar c'era Mick Jagger con, allora era la cantante, la... dai che lo sai. Marianne Faithful. Marianne Faithful. E Brian Jones sotto al palco che batteva il tempo di quello che suonavamo sul mio piede. Questa è stata una serata in quel locale. Con i Rolling Stones. Con i Rolling Stones. A me sono venuti a trovare Keith Richard e Anita. Sotto c'era Brian Jones che batteva il tempo sul piede. al bar. Ecco. Bua signoria là. In tutto questo racconto non dice che lui dei Rolling Stones non ne fregava niente perché lui preferiva i Beatles. Sì, sì, io non ne fregava proprio. No, niente. Ma a parte che la giornata che ho passato con Keith in casa... La trasmetterà anche in Inghilterra sta roba. No. Ha passato sta giornata con Keith Richard. A parte ho messo un'ora e un quarto a dire ma come hai accordato... Lui metteva le dita... Non so come. Lui accordava la chitarra neanche aperta. Era un'accordatura tutta sua che esiste. Se vai a leggere ci deve essere anche scritto. Per cui lui faceva un accordo. Io non ho l'orecchio assoluto. E non capivo che... Andavo a cercarlo perché lui faceva una roba strana e io lo seguivo dopo. Quindi devo dire che a parte questa ora persa nel capire dove metteva le mani per suonare la chitarra non è che mi sono proprio divertito un casino. Io avevo una Firebird, Gibson Firebird fiammante che praticamente avevo solo io in Europa e una Keith Richard perché ne avevamo comprate due insieme da Nanni a Roma. Keith Richard? Io e Keith Richard, solo che lui aveva preso quella bella e io quella di Marba. Ma perché? Perché c'era una filmè bellissima che ha fatto questa e lui mi ha detto I like this one. Tac, ciao. E Nanni ci ha fatto un prezzo particolare ci ha venduto due Firebird. Eh. E niente. Ma perché eri conchistriccia da Roma? Perché era quel periodo dove andavo a casa eccetera eravamo andati lì a vederci a una chitarra. Ah, ok. Non è che sapevamo che c'era la Firebird. Però Mick Jagger non l'ha incontrato. Mick Jagger l'ha incontrato due volte. incontrato personalmente cioè in quel locale era il bar una volta l'ho incontrato in un market di ragazzi a Londra e gli ho detto Do you remember me? Mi ha fatto Non si ricordava. E una volta l'ho incontrato da Mario Schifano. Ah. Perché Anita Pallenberg stava con Mario Schifano. Io credo di no. Tu credi no? Ma no, ma si dice che stesse con... No, c'è stata Nicoletta con Mario ma non so non so se io non lo so devo dirti che lo so. No, va bene, va bene. Va bene. Va bene. No, va bene.